Non è successo niente da notare in questo quinto salto di triplo nella finale. Ecco il salto di Camilla Vigato, è lungo, bandiera bianca, perde forse qualcosina in chiusura sul destro, quindi meno lungo di quello che sembrasse all'inizio, a un 12.65, forse qualcosina meno adesso. Siamo là. Andiamo a vedere la misura di Camilla Vigato. 12.72 si migliora, consolida la sua prima posizione, mentre fra poco le batterie dei 200 Juniors Uomini, questa è Camilla Vigato. Adesso ci sarà l'ultimo turno di salti, mentre vi diamo aggiornamento dal peso, iniziata la gara 10.41 per Melinda Torrente, si comincia anche questa gara, quella del peso. Peso dove... c'è sicuramente gara molto aperta, mi raccredito quello della portacolore,